Il nostro obiettivo stagionale La salvezza, la permanenza in questa Superlega così competitiva Abbiamo due squadre molto forti Sono due squadre che hanno disputato la finale di Coppa Italia Che sono Trento e Piacenza Trento sappiamo benissimo Ha perso la finale Sappiamo benissimo il valore che ha Sappiamo benissimo i campioni Che può schierare in campo Di sicuro, voglio dire Non cercheremo di mettere tutte le nostre energie E anche di più Perché sappiamo che vogliamo rimanere in Superlega E di conseguenza proveremo a mettere in difficoltà Grazie Prima domanda per te Matteis, ti chiedo Che cosa ti ha impressionato di più Della squadra di Trento E in generale Dei top team della Superlega Sono squadre fortissime Hanno i giocatori più buoni del mondo Giocano il palavolo alto livello Che fanno il pressione Senza fare tanti errori E così sono fortissime Grazie Coach, in generale Le chiedo come sta la squadra E se questa sosta è arrivata al momento giusto Oppure preferivate dopo la grande vittoria di Monza Avere continuità La squadra sta bene Sta bene I ragazzi sono molto determinati Tutti i 14 Perché adesso stiamo giocando quest'ultima fase di campionato Veramente con tutte le armi a nostra disposizione E anche nel test match che abbiamo avuto a Modena sabato scorso Abbiamo schierato tutti i 14 giocatori E tutti hanno risposto molto bene Quindi insomma siamo pronti per affrontare questa sfida Ok Mattei, se te chiedo Che cosa non dovrete fare in questo ultimo due partite E cosa non dovrete sbagliare? Non possiamo malare Dobbiamo giocare il nostro più alto livello di palavolo E proviamo a prendere qualcosa a casa Secondo me noi dobbiamo giocare il nostro gioco E dopo proviamo a prendere qualcosa a casa Ok L'ultima domanda per il coach Vi chiedo se c'è un rischio diciamo di rilassamento Visto che la situazione adesso è meno complicata Magari rispetto a quello che si pensava qualche settimana fa Oppure assolutamente no No, no Sicuramente rilassamento no Anzi C'è forse più determinazione Si respira in palestra C'è consapevolezza Siamo riusciti a fare due piccole imprese Sia con Verona che con Monza E di conseguenza Vogliamo sicuramente non compromettere tutto Adesso che abbiamo avuto questo tipo di risultato Sappiamo che non possiamo basarci sugli altri risultati In ogni caso L'ho detto ai ragazzi I ragazzi ne sono consapevoli Di conseguenza noi vogliamo portarci a casa ancora qualcosa Se riusciamo Nonostante ribadisco Sono squadre molto forti che dobbiamo affrontare Però vogliamo salvarci noi Con le nostre forze Chiudiamo con l'ultima per Matteis Una domanda a livello individuale Quindi ti chiedo se sei contento della tua stagione fino a questo momento Allora sarò contentissimo quando ci salviamo Questo è il punto più importante di questa stagione Dopo fino a questo momento sono contento Che sono nella squadra di Padova Che posso giocare in A1 E fino ad adesso sono contento Perfetto Grazie mille ragazzi Grazie